Così come anticipato al momento della recente riapertura del sito, la fortezza di Alecastella rimarrà aperta al pubblico anche nei mesi invernali. Così una nota della direzione regionale Musei della Calabria dal 5 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Infatti, salvo condizioni emergenziali che si dovessero ripresentare, la struttura sarà fruibile nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con orario unico dalle 8 alle 14 ed accesso contingentato al fine di ovviare alle gravi problematiche da Covid-19. Tale risultato è stato ottenuto grazie all'azione sinergica messa in campo dai vari istituti territoriali afferenti alla direzione regionale Musei Calabria, guidata da Antonella Cucciniello. Un rapporto di stretta collaborazione che ha permesso e permetterà, nonostante le tante problematiche, di predisporre un servizio coordinato tra le sedi cortonesi. Priva di fondamento, dunque, è la notizia diffusa nelle ultime ore in merito ad una nuova chiusura della fortezza di Alecastella. La scelta di predisporre un diverso orario di apertura rispetto al periodo estivo discende da varie motivazioni, prima tra tutte l'annoso e risolto problema della grave carenza di personale di custodia che affligge i siti di pertinenza dell'ufficio periferico del Mibact. Da qui i ringraziamenti ai dipendenti ministeriali per il servizio prestato, la disponibilità data anche per i prossimi mesi.